Questo accessorio è incredibilmente pratico, una coperta per stirare che ti permetterà di stirare semplicemente su qualsiasi tavola. Il prodotto è realizzato con la massima qualità e possiede una garanzia di due anni. Basta aprirla e la coperta è già pronta per essere utilizzata. La coperta da stiro è realizzata per stirare con un ferro da stiro normale o a vapore. Tuttavia, sarebbe meglio utilizzare un asse da stiro, se si intende utilizzare un ferro da stiro professionale con caldaie a vapore. La coperta da stiro è sufficientemente ampia per poter stirare qualsiasi tipo di indumenti. La coperta possiede cinque strati di materiale, oltre uno strato in spugna elastica che la rendono quindi molto spessa e comoda per stirare. Lo strato superiore in cotone riflette il calore, rendendo più rapida la stiratura. Gli strati in spugna e in feltro sottostanti permettono di ottenere il miglior risultato possibile. L'ultimo strato protegge il tavolo dal calore e dal vapore ed è anche antiscivolo per garantire alla coperta di restare ben salda nella sua posizione. Una volta terminato di stirare, basta ripiegare la coperta e appenderla utilizzando il pratico anello. Quando si stira con la coperta da stiro, occorre prestare attenzione a un paio di cose. La parte inferiore della coperta può raggiungere una temperatura di 80 gradi, pertanto assicurati che il tuo tavolo sopporti questo tipo di temperature. Inoltre posizionare il ferro da stiro sempre sul proprio supporto e non lavare la coperta, ma pulirla semplicemente con un panno umido.